Il Bassotto non è più alto di 35 centimetri, ma con le sue ossa incredibilmente pesanti, le gambe piccole e potenti, ha la forza, e la resistenza di un grosso cane. I Bassetown sono noti per la loro grande testa a cupola con orecchie molto lunghe e vellutate, occhi tristi e una fronte rugosa, che conferiscono alla razza l'aspetto di un pagliaccio triste. Il Basset è costruito più per la resistenza che per la velocità. L'olfatto di questa razza è incredibile, si dice che tra i cani solo il naso del segugio sia più preciso. Morbido e coccolone a casa, il Bassetown detestardo sul sentiero, e abbaia con una voce forte e squillante. Sebbene possano non essere eccessivamente ostentati nei loro affetti, sono immancabilmente fedeli al loro padrone. Storia La prima menzione del Bassetown si trova in un testo del XVI secolo sulla caccia al tasso. Gli esemplari nani dalle gambe corte si trovano in molte razze e sono noti fin dall'antichità, ma è difficile dire a che punto tali cani siano stati allevati appositamente, e quale di loro abbia portato all'attuale Bassetown. In effetti, ci sono prove che i segugi pigmi esistessero insieme ai segugi a grandezza naturale già nel V secolo d.C. in Francia. La parola Basset deriva dal francese bas, che significa breve o nano, quindi i dati finali sulla razza possono creare confusione. I francesi pre-rivoluzionari usavano cani a gambe corte per una caccia più lenta. Questo è tutto ciò che si sa su questi cani in quel momento. La storia diventa più chiara dopo la rivoluzione, quando più gente comune ha iniziato a cacciare, spesso con le armi. Avevano bisogno di un cane, che potessero seguire a piedi, ma hanno comunque un'eccellente capacità di annusare e ossa forti e pesanti, esenzialmente una versione con le gambe corte dei cani da Soma Popolare tra l'aristocrazia. I cani predavano tutti i mammiferi, ma erano particolarmente adatti a conigli e lepri. In seguito furono allevate quattro diverse versioni dei segugi dalle gambe corte, di cui il Basset Artesien Normand assomiglia di più all'attuale Basset. Alla fine del 1800, e poi di nuovo negli anni 30, furono realizzate croci con segugi per aumentarne le dimensioni, i risultati furono poi compromessi dai successivi incroci con l'Artesien Normand. I primi Basset Town furono portati in Inghilterra, e in America alla fine del 1800, e l'interesse per la razza crebbe gradualmente. Nel 1885, il Basset Town divenne una delle prime razze riconosciute dall'AKC. Entro la metà del 1900, l'espressione divertente del Basset Town aveva conquistato un posto nella pubblicità e nell'intrattenimento, e nel cuore di molti nuovi proprietari di animali domestici. Standard di razza. Forma generale. Il Basset Town dà praticamente le caratteristiche che lo rendono un eccellente seguace del sentiero su terreni difficili. È un cane dalle gambe corte, più pesante nelle ossa, considerando le dimensioni, di qualsiasi altra razza di cane. È in grado di esercitare una grande resistenza sul campo, ed è estremamente dedita al suo lavoro. Temperamento. Il Basset Town d'è una delle razze più bonarie e calme. Questa razza è amichevole con cani, altri animali domestici e bambini, anche se i bambini dovrebbero essere avvertiti di non sforzare la schiena di questo cane mentre giocano. Il Basset Town d'è calmo dentro, ma ha bisogno di esercizio fisico regolare per mantenersi in forma. Preferiscono esplorare lentamente, annusare e pedinare. Sono inseguitori talentuosi e determinati che non vengono facilmente allontanati dal loro percorso. Per questo motivo, possono raccogliere una traccia, e seguirla fino a perdersi. Questo cane tende ad essere testardo e lento. A differenza dei suoi antenati francesi, il Basset Town di oggi non è ben adattato alla vita in cortile, quindi il suo posto in casa. Non sono richieste condizioni speciali per tenere un cane, quindi dovrai acquistare tutti quegli articoli per la casa, come per qualsiasi razza da appartamento, cioè un letto, ciotole per cibo e acqua, giocattoli, un vassoio, un guinzaglio, un collare e altri accessori. Fino a sei mesi, tutti i movimenti dei cuccioli in casa devono essere monitorati. A questa età, le gambe corte del Basset Town sono fragili, instabili e ferite anche con piccoli salti, come da divano. È meglio evitare le scale prima dei sei mesi di età, o salirle e scenderle con un animale domestico in braccio. Igiene. I Basset Town perdono la vita in autunno e in primavera, ma questo non significa che il loro pelo corto debba essere spazzolato con la stessa frequenza. Massaggia la pelle e i follicoli piliferi dell'animale con una spazzola morbida, se non tutti i giorni, almeno un paio di volte a settimana. Questo, in primo luogo, stimola la circolazione sanguigna negli strati profondi della pelle, e, in secondo luogo, migliora la struttura dei capelli. Per quanto riguarda l'odore di cane, nel Basset Town compare solo quando il pelo si bagna. Bagnati almeno due volte al mese, i Basset Town demanano anche l'aroma di un mantello di montone, ma di solito non è troppo pronunciato e non irrita l'olfatto. A proposito, i ragazzi e gli individui con un gran numero di pieghe, hanno sempre un odore più intenso. In una situazione in cui si desidera ridurre al minimo la fragranza del cane, è possibile lavare il Basset Town con shampoo al catrame o aggiungere un po' di acido acetico diluito al bagno. Se il cane puzza troppo di una brutta ombra, è probabile che abbia preso un fungo, o che le sue ghiandole paranali siano ostruite. Quest'ultimo succede molto con il Basset Town. Hai notato che l'animale ha iniziato a cavalcare il quinto punto sul pavimento? Portalo urgentemente da uno specialista per liberare passaggi ostruiti o esegui tu stesso la procedura, guidato da istruzioni dettagliate. Le orecchie del Basset Town hanno bisogno di attenzioni extra. Non solo, quando fai il bagno a un cane, dovrai monitorare costantemente se l'acqua è entrata nel condotto uditivo, devi dedicare del tempo per una ispezione quotidiana dell'imbuto auricolare e della messa in onda. Viene inoltre eseguita la sorveglianza totale del muso dell'animale. I Basset Town sono ancora quei bavosi, e il loro modo di sciabordare è specifico, schizzi e pozzanghere come una fontana in tutte le direzioni, quindi dovrai essere in servizio vicino al cane con un asciugamano. L'igiene degli occhi del Basset Town consiste esenzialmente nel pulire la mucosa con infusi di erbe. Ricordati di prenderti cura delle grosse zampe del tuo cane pulendole dopo le passeggiate con un panno umido e tagliandogli le unghie un paio di volte al mese. Conclusione I Basset Town sono cacciatori nati, sono caratterizzati da tratti come il gioco d'azzardo e la mobilità. Possono andare d'accordo perfettamente in un appartamento di città, ma è preferibile la natura morta in una spaziosa casa di campagna con un grande appezzamento adiacente. Questi sono cani abbastanza intelligenti e arguti, non sono difficili da addestrare, soprattutto perché mostrano il più vivo interesse per questo. Hanno un ottimo senso dell'olfatto, quindi sono costantemente in movimento, annusando ogni cosa nuova che entra in casa. Hanno bisogno di passeggiate regolari in cui questi cani possano sentirsi relativamente liberi, e possano fare ciò che amano, ovvero la ricerca di cose interessanti. Durata La durata media della vita del Basset Town è di circa 11 anni, che è una durata media tipica per i cani di razza, e le razze si avvicinano per dimensioni al Basset Town. Il più vecchio dei 142 cani morti in uno studio del Kennel Club del Regno Unito del 2004 aveva 16,7 anni. Le principali cause di morte nello studio del Kennel Club del Regno Unito del 2004 erano il cancro, 31%, la vecchiaia, 13%, il volvolo gastrico, 11%, e l'insufficienza cardiaca, 8%. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.